Un paio di giorni fa la strada statale 115 sud occidentale Sicula è stata chiusa al traffico a Gela per lo straripamento del torrente Ficuzza che ha causato danni alle colture e alle infrastrutture agricole. Oggi una task force ha preso il via per mappare ed eliminare le piste e i guadi impropri esistenti all'interno degli alvei dei corsi d'acqua dell'isola. Attorno allo stesso tavolo il segretario generale dell'Ende Leonardo Santoro ha riunito le prefetture e la protezione civile i rappresentanti degli uffici del Genio Civile e della struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico e l'Angi Sicilia. Un provvedimento che segue il vertice convocato martedì scorso a Palazzo d'Orleans dal presidente della regione Renato Schifani per tracciare entro dieci giorni una mappa degli oltre 8.000 corsi d'acqua presenti nell'isola e avviare un piano straordinario di manutenzione. Spesso si tratta di strutture precarie e non autorizzate, la cui realizzazione costituisce il reato penale soprattutto perché nella maggior parte dei casi concorre a causare maggiori danni a seguito dell'ostruzione dell'alveo fluviale causando nella fuoriuscita degli argini in conseguenza di eventi meteorici specie se intensi. In questa fase, afferma il segretario dell'autorità di Bacino Leonardo Santoro, sarà fondamentale il ruolo dei comuni per individuare con certezza la collocazione del soggetto responsabile a cui poi intimarne la rimozione in danno. L'attività avviata oggi è fondamentale anche per accrescere la consapevolezza del rischio nei confronti della popolazione che ignara viene indotta ad attraversare questi guadi su cui sono collocate illegittimamente strade interpoderali, comunali, provinciali o statali.